buongiorno buongiorno amici di Kikiriki buongiorno a tutte le tamurane e a tutte le materane materani e altamurani buongiorno da Emanuele Giordano dalla trasmissione Kikiriki in onda sempre su canale 2 alle 14.15 circa mi raccomando stamattina vi voglio parlare di uso di soldi pubblici di uso di danaro o denaro come si maurizio denaro o danaro? come? danaro io voglio dire denaro no anche perché c'è una canzone di come si chiama quella? non sono il re di denari come si chiama quella canzone? io mi lasso di fiori nada, 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 nada diceva denari quindi maurizio poi piace se potete pure denaro uso improprio e spreco di denaro pubblico voi dite Emanuele e c'è bisogno che lo devi dire tu che quando si tratta di soldi pubblici gli amministratori locali, regionali, nazionali fanno un uso improprio e uno spreco perché non sono soldi loro non fanno le deiezioni dal loro deretano e quindi sono soldi pubblici e quindi li spendono senza usare la diligenza e l'accortezza del buon papà di famiglia avete mai sentito parlare amici di quando è bello che uno usa le parole inglesi ma mi piace assai cioè in Italia adesso siamo immersi dalle parole inglesi eppure siamo l'italiano è la quarta lingua parlata cioè eppure noi siamo fissati per l'inglese avete mai sentito parlare di bike sharing? bike sharing io pensavo fosse una parola d'amore mi avvicinavo l'altro giorno a una ragazza e disse scusami miss bike sharing pom faceva una roba di scaff che altro che bike sharing bike sharing sapete che cos'è? tipo biciclette condivise biciclette a noleggio biciclette in fitto per brevi periodi per visitare le città allora è qui Matera non ci facciamo mancare niente mi dispiace per voi altamurani ma noi materani siamo un gradino in più siamo dei fenomeni i nostri amministratori passati e presenti sono dei fenomeni non ho le chiacchie mi dispiace per te sindaco forte ma qua abbiamo proprio le cristiane abbiamo i fenomeni allora il bike sharing a Matera sono più di tre anni che in parecchie strade di Matera hanno messo questi totem questi totem bellissimi fino dal 2013 stanno qua bike sharing investiamo sul nostro ma quando fatemi conoscere questo fenomeno che conia questi slogan per Matera abitante culturale investiamo sul nostro futuro fondi europei 2007-2003 Unione Europea bike sharing stazione comunale questa è la stazione del il bike sharing a Matera da tre anni dicono loro ci sono già diverse i punti di stazione dove sta la stazione per poter noleggiare diciamo le biciclette e quindi io lo dico per i turisti potete noleggiare area camper di Serra Rifusa infatti adesso poi vi farò vedere le immagini dell'area camper di Serra Rifusa in che condizioni si trova il bike sharing poi c'è parcheggio Saragat praticamente è il parcheggio coperto poi c'è comune via Aldomoro ici non si troviamo ici al comune di Aldomoro parcheggio piazza Cesare Firrao altri bike sharing da noleggiare le biciclette parco del castello dove c'è il castello di Matera ci stanno altre cose un'altra stazione per noleggiare le biciclette Sassi Sassi via Fiorentini memorizzate Sassi via Fiorentini perché lì concluderemo la puntata e poi parcheggio via Lucana dentro Pasquale Revena cioè Maurizio hai tutto a posto quindi questo è il bike sharing allora per fare questo bike sharing perché Matera una città turistica capitale per la cultura mica a chiacchiere non è che stiamo parlando di Meggiung con i rotto picciano e la Fez no assolutamente hanno speso cioè con i fondi Fez che sono dei fondi europei per lo sviluppo delle aree diciamo un po' dimenticate diciamo così tipo la Basilicata hanno speso oltre 500 o poi c'è stato l'aumento mi sa che hanno speso intorno alle 700 mila euro giusto per chi non si ricorda ancora l'euro 700 mila euro sono più cioè quasi o più di un miliardo scusi Maurizio di un miliardo e mezzo delle vecchie lire 1,4 ah boh diciamo di miliardo e mezzo compreso IVA hanno speso allora voi mi direte sono passati tre anni diciamo perché qua sono stati sì intorno al 2013 hanno messo questa cosa come ricordo perché ho fatto altre hanno speso questi soldi già pagati soldi nostri anche se sono fondi europei sono sempre soldi pubblici perché dovete sapere che l'Italia dà all'Europa molto di più di quando riceve faccio l'esempio diamo 10 miliardi ne riceviamo 7 quindi la prendiamo sempre in Wish and Blonde e Maccheron allora uno dice beh adesso Emanuele farà vedere diciamo la stazione con i punti di attracco e farà vedere le biciclette che si possono sharingare no sharing le biciclette che si possono sharingare come on vi faccio vedere il punto diciamo di raccolta di presa per il culo ci volevo no per presa delle bike sharing delle biciclette allora Maurizio qui c'è la stazione no la base per poter selezionare F2 F2 F3 F6 16263 no e qui c'è il punto di attracco delle biciclette 1 2 3 4 5 6 6 12 cioè in tutto dovrebbero essere intorno alle 150 180 biciclette elettriche che sono costate a noi 700 mila euro allora uno dice ma dove cazzo sono le biciclette dove stanno le biciclette allora adesso vi porto un attimino all'altro punto di stazione che si trova in via Fiorentina nei pressi dei sassi e lì vi spiegherò tutto giuro di dire tutta la verità nient'altro che la verità lo giuro lo giuro come on siamo qui nella splendida via Fiorentini il cuore dei sassi questa stradina bellissima caratteristica e uno dice ma dove stanno le bike sharing oh 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 a Doce Town allora qui c'è una porta in lamiera zincata Maurizio seguimi che poi seguiranno le immagini c'è una porta in lamiera zincata chiusa e come potete vedere dalle immagini del buon Maurizio dentro un luogo angusto tutto sporco lercio lurido c'è la stazioncina di attracco delle biciclette come potete vedere luce accese anche di giorno mi sa che così diceva un famoso motociclista quando raccomandava i motociclisti di usare le luci diciamo quando vai con la moto le luci accese anche di giorno si vede che l'amministrator comunale ha una capisciuta che le luci accese correndo i soldi pubblici devono essere accese anche di giorno e quindi come avete potuto vedere ci sono i neon accesi in questo locale di giorno chiuso dove c'è il bike sharing ma uno dice wagnu ma le biciclette Emanuele ma do capstone allora adesso partono le immagini del buon Maurizio oddio le immagini lascio un po' a desiderare perché è chiuso e ci sono dei riflessi di luce però si intravedono una decina di biciclette depositate buttate scaraventate ormai ammuffite lì perché voi sapete che dopo 3-4 anni le bici elettriche che hanno le batterie la batteria se non la ricarichi e non la usi dopo un po' deperisce e le devi buttare quindi andrà a finire che questi 5-7 mila euro di soldi nostri buttati che hanno che puttate un po' di schetti ti ho sputato maurì buttati andranno persi e bisognerà di nuovo ricomprare le biciclette perché le batterie si sono scaricate vabbè amici di chicricchi sinceramente io non ho parole però se queste cose non le fa vedere Emanuele Giordano con la trasmissione chicricchi nessun politico mai neppure dell'opposizione perché a Mater non esiste l'opposizione cioè dovremmo avere un'opposizione del 5 Stelle ma secondo me l'unico consigliere comunale di 5 Stelle se ne guarda bene cheat cheat mezzo la chiazza cioè sono stati spesi 500 perché poi c'è stato anche l'aumento inizialmente del 500 mila euro ma mi sa che poi siamo arrivati a 700 mila euro 700 mila euro per bike sharing che non esiste bike sharing che non esiste ci sono soltanto le stazioni di attracco le biciclette un centinaio di biciclette tempo fa mi sa che erano depositate in un deposito di Altamura che è la ditta che si è aggiudicata diciamo la gara che ha vinto la gara però pare pare qui lo dico e qui lo nego che la ditta era una ditta di Rovereto io ci ho parlato anche con il titolare in pratica non sono stati pagati ma non dal comune il comune ha pagato il suo fornitore è il fornitore che non ha pagato la casa madre di Rovereto e giustamente la casa madre di Rovereto non consegna il software non consegna il programma di gestione delle bike sharing questa è l'Italia questi sono i nostri amministratori che quando pagano con i nostri soldi non si assicurano non controllano a chi danno i soldi e dove vanno a finire i nostri soldi quindi il bike sharing a Matera è soltanto a chiacchiere stavo cadendo è soltanto a parole e allora a questo punto siccome a me piace tantissimo un cantante bravissimo scomparso mi pare da due o tre anni Michael Jackson voglio concludere questa puntata di Kik Rikki facendo come dire un onore la dedico al grandissimo Michael Jackson e concludo questa vabbè dosta nella bicicletta dopo tre stai e concludo con il suo la sua invenzione il classico passo del moonwalk io sono un degno erede di Michael Jackson e quindi indegno allora vai con Billie Jane di Kik Rikki il Kik Rikki Kik Rikki Gallito Kik Rikki Bocito Kik Rikki Te quiero Kik Rikki Grazie a tutti.